Una settimana dopo la tempesta Gloria che ha devastato la Spagna, i coltivatori di riso e gli allevatori di molluschi nel delta dell'Ebro stanno ancora valutando le loro perdite. Questo ragazzo proviene da una famiglia di coltivatori di riso. Non conosceremo l'impatto della tempesta fino alla stagione del raccolto, fino a quando non seminiamo il riso, controlliamo se cresce e vediamo cosa succede. Non possiamo quantificare il danno adesso. La sua famiglia gestisce anche una casa vacanza in mezzo alle risaie. Abbiamo avuto cancellazioni a causa della tempesta, ovviamente le cancellazioni della scorsa settimana erano scontate, ma ce ne sono altre la prossima settimana. Addirittura anche le persone che avevano prenotato per Pasqua hanno disdetto. I coltivatori non sono stati soli a soffrire dei danni causati dalla tempesta Gloria. Anche gli allevatori di molluschi hanno subito ingenti perdite. Questa raccolta è andata persa, non ci sarà tempo per sostituirla. Inoltre le strutture sono state completamente distrutte. Qui c'è molto lavoro da fare. Ricostruire tutto questo in mare non è la stessa cosa che farla a terra. È molto più costoso e laborioso. Ciò significa molte perdite di denaro per la raccolta e le strutture. La ricostruzione di questa infrastruttura per l'allevamento di cozze costerebbe circa 70.000 euro, un importo che si aggiunge alle perdite di produzione. Jonathan stima di aver perso 50.000 chili di cozze dal valore di 60.000 euro. Nessuno ricorda un evento del genere, ma credono di conoscere la causa. Per anni abbiamo subito una regressione del delta o per mancanza di sedimenti o perché il livello del mare si sta alzando a causa del disgelo. Il fiume non porta abbastanza sedimenti e ciò non consente al delta di crescere. Ogni anno con i cambiamenti climatici aumenta l'acqua di mare e il mare guadagna terreno nel delta. Grazie.